In questo nuovo capitolo ci occuperemo dell'epoca immediatamente successiva alla caduta di Napoleone, aperta dal congresso di Vienna che si apre nel novembre del 1814 e si conclude nel giugno del 1815. Questo congresso è stato indetto dall'Austria e cerca di riportare la situazione all'epoca precedente alla rivoluzione francese. Andiamo a vedere quali sono gli elementi costitutivi di questo periodo storico. Partendo dai paesi partecipanti al congresso di Vienna, l'Austria che è polonotrice con il suo primo ministro von Metternich, la Prussia, la Russia e la Gran Bretagna. Al congresso di Vienna fu invitata anche la Francia con il suo primo ministro il cardenale Tahirin che cercherà di riportare in Francia la dinastia borbonica. I principi ispiratori della restaurazione erano la legittimità, cioè riportare i legittimi sovrani su loro troni, il principio di equilibrio, fare in modo che non ci fosse un paese molto più forte e più potente dell'altro, e la politica assolutistica precedente alla rivoluzione francese. Quali erano i problemi principali da risolvere? Rimettere i sovrani sul trono che erano stati spodestati da Napoleone. Napoleone aveva cambiato completamente la cartina europea, quindi questo era un problema, ridefinire i confini era un problema per non creare conflitti. Riportare una situazione di pace e stabilità, c'erano ancora continui conflitti di confine tra i diversi paesi, quindi ridefinire i confini in modo che tutti fossero felici e contenti, ed evitare nuove ripoluzioni, perché ormai il popolo col passaggio di Napoleone avreva preso coscienza di se stesso e dei propri diritti. Ma Napoleone avreva procurato dei cambiamenti irreversibili, era infatti impossibile restituire i beni confiscati e legittimi proprietari, ormai più volte passati di mano, era impossibile fare a meno della borghesia, che è quella che deteneva il potere economico, e che poteva far rilanciare l'economia europea attraverso gli investimenti, e accettare quelle riforme civiche e civili che Napoleone aveva esteso ormai a tutta Europa e che si erano rivelate vincenti. Era impossibile, insomma, era un po' difficile tornare indietro ai vecchi privilegi dell'epoca assolutistica. Vediamo come cambia la cartina d'Europa innanzitutto. L'Austria cresce territorialmente acquisendo i territori italiani del Lombardo-Veneto in modo da garantire l'equilibrio sulla penisola italiana, che era formata da tanti piccoli staterelli. La Prussia si estende verso la Germania e per anni rivaleggia con l'Austria per contendersi la presidenza della Confederazione Germanica, che era sorta dopo la caduta di Napoleone. La Russia non si interessa del continente europeo a Occidente, ma acquisisce il territorio della Finlandia e il territorio della Bessarabia approssimativamente ai paesi dell'Ucraina e della Moldova e inoltre associa l'impero zarista russo al regno di Polonia. Quindi lo zar di Russia si mette in testa la corona dell'impero russo e quella del regno di Polonia. La Gran Bretagna non aveva ambizioni territoriali in Europa, ma fissa dei punti strategici sulle rotte mediterranee e oceaniche, acquisendo l'isola di Malta e le isole Ioni nel Mediterraneo, le isole Maurizio e Seilon nel Oceano Indiano e le isole di Topapo e Santa D'Ossia nell'Oceano Atlantico nel Centro America. Infine la Francia, che pur non essendo un paese vincitore, andava di messa a posto perché era qui che era nata la rivoluzione francese. I confini vengono riportati a quelli precedenti alla rivoluzione. Sul trono viene posto Luigi XVIII di Borbone, discendente della dinastia borbonica, che però non poteva riportare subito una politica solutistica, quindi concedette una sorta di costituzione ai cittadini francesi in cui privilegiava i cittadini più ricchi che potevano partecipare al voto di un Parlamento e garantendo una certa uguaglianza tra tutti i cittadini, nonché una libertà di culto, ma una certa libertà di stampa e di opinione a cui ormai il popolo francese era abituato. Ma in cambio la Francia vide annullato il suo potenziale militare, vide ridotto il suo esercito, il territorio continuava a essere presidiato da eserciti stranieri, soprattutto inglesi e prussiani, e sono rafforzati i paesi confinanti con la Francia, cioè il Regno dei Paesi Bassi e il Ducato di Savoia, che diventa Regno di Sardegna, acquisendo la Repubblica di Genova, compresa la Sardegna, perché in caso di una nuova rivoluzione in Francia, questi due paesi avrebbero funto da barriera. Vediamo l'Italia come si riduce dopo la restaurazione. Il Ducato di Savoia diventa Regno di Sardegna con l'acquisizione della Liguria e della Sardegna, facente parte precedentemente della Repubblica di Genova, e diventa Re di Sardegna, Vittorio Emanuele I di Savoia. Il Regno Lombardo-Veneto, che comprende il Friuli, il Veneto e la Lombardia, va all'impero austriaco. Lo Stato Pontificio riprende i territori dell'Emilia Romagna, delle Marche dell'Umbria, che insieme al Lazio formano lo Stato Pontificio, e torna sotto il controllo del Papa. L'Italia meridionale e Sicilia vanno ai Borbone di Spagna, mentre il Gran Ducato di Toscana, l'altro territorio più grande, va alla famiglia del Loreno, imparentata con gli Asburgo. Anche altri piccoli stati del centro nord Italia, Ducato di Parma e Piacenza, Ducato di Modern Reggio e Ducato di Lucca, vanno a famiglie imparentate con l'Austria. Insomma, sull'Italia si estende il predominio austriaco. Ma questi paesi vincitori di Napoleone non si fidavano tanto gli uno degli altri, quindi formarono delle alleanze difensive. La prima è la Santa Alleanza, siglata tra lo Zard di Russia e Alessandro I, Francesco I d'Austria e Federico Guglielmo III, Kaiser di Prussia, a cui in seguito aderiranno anche Francia, Piemonte e Paesi Bassi. Lo scopo di questo trattato era quello di difendere l'ordine e la monarchia assoluta, in particolare il principio di legittimità, soffocando qualsiasi tentativo rivoluzionario. La quadruplice alleanza, invece, siglata tra Austria, Prussia, Russia e Inghilterra nel 1815, garantiva il principio di equilibrio in Europa. Ma non tutti erano d'accordo con la restaurazione. Vediamo chi erano quelli contrari. Innanzitutto i funzionari, gli ufficiali napoleonici, che persero tutto il loro potere che avevano acquisito durante l'epoca napoleonica. Poi gli intellettuali aderenti al romanticismo, che recuperarono gli ideali di sentimento contro quello della ragione, adottando delle istanze e degli ideali più razionali, come quello di religiosità, identità nazionale e amor di patria. Mentre dal punto di vista politico nacquero due schieramenti nuovi, i liberali democratici e i liberali moderati. I moderati volevano una monarchia costituzionale con un soffraggio censitario, potevano votare solo i più ricchi, una lega doganale che permettesse la libera circolazione delle merci e un'ispirazione al neoguerfismo, cioè una politica fortemente incentrata sui principi cattolici. I democratici, invece, volevano una repubblica, il soffraggio universale e uno stato unitario o federale, laico, libero dai condizionamenti della religione cattolica. Queste istanze furono portate avanti da società segrete. Visto il rigido controllo della Santa Alleanza e della Quattruplice Alleanza, gli ispiratori di questi movimenti politici dovevano incontrarsi segretamente. Erano soprattutto borghesi, ex ufficiali napoleonici, aristocratici e alta borghesia. Non vi aderivano, erano di età molto giovane, non vi aderivano esponenti del popolo, perché il popolo era ormai stanco di guerre, repressioni e rivoluzioni. Questi movimenti daranno origine ai movimenti del risorgimento italiano e tedesco che porteranno all'unità delle ultime due grandi nazioni che ancora non erano unite. Parliamo un po' di più del romanticismo. Quali erano gli ideali romantici? Gli ideali del sentimento, della fantasia, del genio e della religione. che si sviluppavano soprattutto nel campo artistico, musicale e letterario. E che avevano come emblema l'eroe romantico, l'eroe che sconfigge le forze conservatrici per fondare una nuova società. Il romanticismo ispirò la libertà e l'aspirazione all'indipendenza di diversi popoli, promuovendo gli ideali di patria e nazione, che sono due ideali molto diversi. Mentre per padre si intende la terra dei padri, quindi la terra dove si è nati, per nazione si intende la propria etnia superiore a quelli degli altri. Infatti queste istanze diedero origine ai moti rivoluzionari e indipendentisti di questo periodo. Parole come patria e nazione sono nati due altri termini, patriottismo e nazionalismo. Mentre il patriottismo ha un connotato positivo, la difesa della terra dei padri, il nazionalismo ha un connotato negativo che implica la superiorità di una nazione rispetto a un'altra e che darà origine ai totalitarismi del XX secolo, che scateneranno poi la Seconda Guerra Mondiale. Arrivederci.